Tagliare i costi della politica Il Consiglio regionale ha esaminato ed approvato alcuni provvedimenti per ridurre i costi della politica. Nella seduta del 2 ottobre la legge per stabilire nuovi tagli su indennità e rimborsi dei consiglieri e nella seduta del 3 la riforma dello statuto per la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori. Il 2 ottobre inoltre l'Assemblea ha concluso il dibattito ed ha votato gli ordini del giorno sulla crisi occupazionale. Il Cal sul riordino delle province Il Consiglio delle Autonomie Locali ha approvato il 3 ottobre con 27 voti favorevoli e 4 contrari la proposta in merito al riordino delle province nell'ambito della spending review chiedendo che la decisione sia recepita dalla Regione nella deliberazione da presentare al Governo. La proposta prevede la riduzione da 8 a 4 province piemontesi, Torino, Cuneo, Asti e Alessandria e del Piemonte Orientale attuali province di Novara, Verbano Cusio-Ossola, Biella e Vercelli. Premio piemontese nel mondo Si chiamano Celestina Fortina, Carla Merlone Squatrito, Adriana Cristina Crolla, Don Bartolomeo Bergese e Marco Rosano. Una missionaria laica, un'imprenditrice, una docente universitaria, un sacerdote e un musicista. Sono i 5 emigrati che grazie ai meriti espressi in svariati campi di attività il 28 settembre nella cerimonia ufficiale a Palazzo Lascaris hanno ricevuto il premio internazionale piemontese nel mondo edizione 2011. 40 studenti di 28 istituti scolastici superiori del Piemonte sono stati a Berlino per il viaggio studio organizzato dalla Consulta Europea del Consiglio Regionale del Piemonte nell'ambito dell'iniziativa Diventiamo Cittadini Europei. Gli studenti piemontesi hanno visitato il Monumento dell'Olocausto e il Memoriale del Muro e hanno incontrato giovani studenti tedeschi del Movimento Europeo. Comitato Resistenza e Costituzione, Progetto Comenius Il 4 ottobre a Palazzo Lascaris il Vice Presidente del Consiglio Regionale Roberto Placido il Presidente dell'ANED Ferruccio Maruffi e l'ex Comandante Partigiano Franco Berland hanno incontrato gli studenti del convitto Umberto I e una delegazione dei studenti polacchi del Terzo Liceum di Zamos nell'ambito del progetto didattico Comenius. Grazie a tutti. Grazie a tutti.